Alla fine naturalmente credo che sia stata una bella partita tra due squadre, quasi una partita dal playoff tra due squadre che hanno giocato anche a tratti una bella palla canestro e poi la Virtus credo che abbia vinto con merito questa partita. Noi rimane un pochino di amare in bocca per come abbiamo giocato questa partita con molta attenzione, siamo stati solidi, non voglio dire controllandola, però stando molto attenti sulla partita per 38 minuti e poi abbiamo pagato forse gli ultimi tre minuti dove abbiamo male eseguito alcune cose, subito il talento di Bologna in alcune giocate. C'è un pochino di amarezza perché credo che la partita se l'avessimo vinta non avremmo rubato niente, però alla fine il risultato dice che ha vinto Bologna, noi abbiamo fatto certamente dei passi avanti in termini di consistenza, in termini di presenza difensiva, abbiamo certamente avuto qualcosa di più da qualche giocatore, anche se poi devo dire che la presenza di Teodosi ci ha dato un tasso di talento altissimo a Bologna. E' naturale che per la pallacanestro tutta, glielo ho detto anche a lui, è un piacere vederlo giocare, è un piacere che sia tornato a giocare, avesse iniziato l'anno prossima saremmo stati un po' più contenti, però noi siamo sempre fortunati in questo. Diciamo che però è un grande campione, l'abbiamo sempre visto in altre squadre, quindi avercelo è un bel segnale per tutto il movimento, ora noi siamo arrabbiati perché abbiamo perso, ce la finiamo, però insomma si parla di un giocatore che a tratti la spiega. Noi non eravamo sorpresi, io ero quasi sicuro che avrebbe giocato, abbiamo preparato delle cose, devo dire che lui in alcuni momenti ha preso in mano la squadra, ma nonostante questo quando siamo tornati sul meno uno, avevamo la possibilità con due buone difese di mettere a nuova vento la testa avanti. Invece abbiamo eseguito male in queste partite con squadre, diciamo da scudetto, non te lo puoi permettere e soprattutto fuori casa. Ripeto, ci prendiamo i miglioramenti che per ora non ci portano punti, però ci portano un po' di arrabbiatura, ma anche un po' più di consapevolezza nella speranza di recuperare qualche giocatore, sia mentalmente che tecnicamente, perché abbiamo bisogno dell'apporto di tutti, soprattutto giocando come voi le due competizioni, in cui la seconda ci vede in un girone molto duro.